...è l'ambientino, l'ambientino che fino a questo momento ci sta quasi impedendo di svolgere, dico quasi per amore di verità, ci sta quasi impedendo di svolgere al meglio il nostro lavoro, visto che vorremmo partecipare con maggiore entusiasmo, ma non possiamo ammettere a rischio la nostra incolumità, dicevo questo ambientino che già ci sta impedendo di svolgere al meglio questo lavoro, beh ha preso fiato questo ambientino, si è ulteriormente surriscaldato, vi lascio immaginare questo gol del Cagliari, cosa ha scatenato e la serie di improperi che in questo momento sono stati rivolti alla nostra postazione e a quella di Radio Marte. Radio Marte, Radio Ufficiale del Napoli che è accanto a noi, a proposito anche oggi alla fine della gara ci sarà il collegamento con Salvatore Calise e con Radio Marte, attenzione Agostini per il Cagliari, poi Matri, Nadia di rigore, c'è un calcio che funziona per il Cagliari pericolosissimo. Dicevo anche oggi c'è il collegamento con Radio Marte, Radio Ufficiale del Napoli, collegamento che poi ripeteremo lunedì sera, alle 23.10 subito dopo Sport Show in diretta dal Teatro San Nazaro, mi raccomando chiamate al botteghino del San Nazaro per assistere a Sport Show, tutto gratuito naturalmente, 20.50 dal Teatro di Via Chiaia in diretta e poi dopo 23.10. 23.10. Notte Azzurra in TV, in diretta con Radio Marte, Radio Ufficiale del Napoli, calcio e produzione per il Cagliari, faccio finta di distrarmi, c'è Cossu sul pallone, pallone morbido dentro, andiamo a liberare, vai Gargano, vai Gargano, liberiamo, mamma mia, e adesso gli ultimi minuti. Traversone, calcio d'angolo, adesso bisogna stringere i denti, il Cagliari è tornato in partita, forza, bisogna... Guardiamo prima quello che accade con questo calcio d'angolo per il rosso-blu, difesa del Napoli molto attenta, non abbiamo concesso nulla al Cagliari, un gol, adesso sta cercando questo gol, angolo battuto, esce con i pugni, libera, poi De Santis, poi restiamo lì, ancora in area di rigore, pallone perso dal Cagliari, meno male, forza, vai Zuniga, no, abbiamo regalato palla al Cagliari, mamma mia, mamma mia, Cossu, 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 traversione di Cossu, pericoloso, gollo, 2-2, mamma mia, mamma mia, è maledetta, è maledetta. Eccolo qua, bravo, ecco qua, ma cosa vuoi? Lascia bene, bravo, 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 Ecco qua, questi sono i tifosi del Cagliaro, con te, con te, grazie, 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 questi sono i civilissimi tifosi del Cagliaro, benissimo, due a due, minispot per noi, vai.